Ragazzi, ragazzi, rieccoci qua su Lost Judgment, dunque, siamo sempre più vicini alle battute finali, stiamo svolgendo, diciamo, tutti i compiti secondari possibili che si possono svolgere prima del finale, così da completare il tutto, adesso vediamo se qua si è sbloccato no, no, però, ecco, stavo appunto dicendo, però, diciamo, tutti quei casi che comunque si possono fare senza, come posso dire, andare a, non mi viene la parola, cioè, quei casi che sono facilmente, diciamo, raggiungibili senza fare giri strani o, non lo so, per sbloccare una missione bisogna farne un'altra che è un po' nascosta, esempio, no, sto facendo esempio a caso, ecco, quindi se in questo caso, completando, noi l'episodio scorso abbiamo fatto questa qui, la prima commissione, se facendo questa, la va a sbloccarsi questa, benissimo, adesso l'avremmo fatta, ma se per sbloccare quella devo fare cose specifiche che in questo momento magari non mi vengono in mente, pazienza, ecco, tanto per quanto mi riguarda la maggior parte delle missioni non le abbiamo fatte, racconti scolastici li abbiamo fatti tutti, questa comunque non l'avrei fatta, perché andare in giro a cercare i materiali non mi va proprio, perciò allora io direi che possiamo anche dedicarci alla missione finale, sono in finale, direi che è ora, adesso qua, ci disturberanno, pronto, curati, ok, qui c'è, ecco appunto, ok, mangiamo qualcosina, ci recuperiamo, tutto, 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 ordina, ok, va bene, conquista poche caffessi, va bene, ho segnato, ah no, avevo segnato questa per una missione, no, qua, no eh, va proprio di qua, va proprio di qua, via, ma sta sedia mi blocca, ok, ah no, Questa è una cosa più grande della vita Grazie a tutti, Yagami No, non so se vede bene No, non so se vede bene Non so se vede bene Sì, quindi tu stai a fare il regno di farlo C'è il giocatore di Saori Sì, è stato un giocatore di Sauri, ma è stato un giocatore di Sauri. Ah, è vero. Perchè, io non ho capito di farlo di Sauri di Sauri. Oh? No, non è vero. Perchè parlare con Sauri? Se non c'è un giocatore di Sauri, non è vero. Sì, non è vero. Meglio raccogliere e organizzare le informazioni che gli altri hanno ottenuto ai Jincho Dunque dove è Kuana? Sì, non è che il suo sito di Kuana? Non mi piace ancora. Ah, non mi piace. Ho chiesto di aver guardato il Jincho, ma non è un problema. RK è anche il suo sito di Kuana. Ci sono state anche le mie che si riuscite. C'è una bella, e non posso capire che cosa è così. Poi ci sono. Perciò che lausica non possono ancora trovare Cuanasra. C'è qualcosa. C'è quello, sì... Cuanasra! Ci sono state di banane con un mare per questo tempo. Hai visto assolutamente accretato fino all'inizio? C'è la notizia. C'è la notizia. Non parlo di più. Non sapeva senza rispondre. Quando ero, avevo un po' di un'altra persona. Ma che cosa è l'ora prima. Quando ero in questo momento, Kusmo e Leiko, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so. Non lo so. Se una cosa che viverebbe un'attività, è un'attività. E' un'attività. E' un'attività. E' un'attività. Ah, sicuramente. Magari no, però in maniera molto scenografica Entra in aula Matsugane a rivelare i piani dell'ex ministro della salute Secondo me con Kuana accadrà una cosa simile visto che è stato tradito Comunque avete incontrato la moglie di Eara? C'è un piacere che non è facile La mia chica, non mi ha mai parlato di Eara Non mi ha mai parlato della stessa Che aveva un padre che ha fatto iniziare a casa Sono stati iniziando che inizia a casa E'vissica e che ci sono stati iniziando a casa E'vissica che non ha mai parlato di Eara Che è successo, non ha mai parlato di essere attenzione Allora, però non ha mai parlato di più Si è stato un ragazzo che aveva il tempo E' come continua vivendo nella stessa Mi sono anche a me, per me, ho portato solo a me, ma... ho sempre fatto un po' di più che non mi piace... E' una cosa che ha detto che è stata chiamata in un po' di risposta? Non mi piace, non mi piace. Non mi piace, non mi piace, ma che non mi piace, non mi piace, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Meglio da cogliere, ok Novità sugli RK Noi, la cosa di noi e il deve andare a stare. Non ti dove, ma si è difficile. Non ti dove say, voi volentare i nostri, e non si tuoi ci sono che i nostri volentieri. Perché io mi soggetto, lo so che i nostri spaggersi. L'intre volentieri? No, se non mi piacente, mi ricetta deve ria cuore per il nostro corpo. C'è un po' di più di più di più di più. Non c'è nulla, non c'è nulla Se non c'è l'autorità, non c'è nulla Non c'è nulla, non c'è nulla Non c'è nulla Non c'è nulla Non c'è nulla Meglio raccogliere, ok, ma non c'è altro C'è nulla È un po' di più Ora, adesso non c'è l'acquittura Iniziamo a sottotitoli Con questo È un po' di più Non c'è nulla Ma Iniziamo a fare l'acquittura Sì, questo è un po' di rinforzamento. È un po' di rinforzamento, Foshino. Non è un po' di rinforzamento. Non è un po' di rinforzamento. Non è un po' di rinforzamento. Allora, vado a rinforzare a Calumro町. Fai tranquillamente. Rimarrò a dormire Faccio solo altri due passi qui intorno Forse per salvare No, rimarrò qui a dormire Non siamo riusciti a trovare Né Kuwana né Soma Allora quei Jinchii abbiamo finito, no? C'è un drone qui Sta giocando Vabbè Completa i preparativi Aspetta Che senso? Devo andare da qualche parte? Aspetta, fammi uscire da qui Vediamo Ah, qua Torniamo Oh, c'è quello dorato Oh, e vabbè Ci ha preso Madonna Schivato al pelo Insieme Oh, oh Eh Ma vorrei provare a fare la mo... Quella che è apparsa prima Non mi esce più Ok Ok C'è dato un po' di soldi Va bene Magari possiamo Beh, questo non è Ah, qui Forse avevo tutto Aspetta Sì, qua ne compro uno Eh, infatti questi li avevo tutti Perché non li ho mai usati Eh, sì No, il guaiato strano Aspetta Ok Che dici? Ah, ecco Ok Anche qui? Ma ma... È il secondo avviso Questo Il gioco sta per farsi duro Da qui in avanti Quindi sbriga Tutto le Prevenzioni di fare Magari salvo Ecco Aspetta lunga sezione di gioco Ok Una volta avviato la fine Non potrei più tornare indietro È rimasto cosa da fare? Aspetta Ok E... Salvo magari Poi mi consigliava Ok Mi consiglia anche adesso Fa vedere se per caso No No Andrò al secondo piano Se per caso Qui Si è sbloccato qualcosa No Vedi Qua Quanto non ho Ehm Cioè vedi Completato Punto di domanda Dovevo completare Qualcos'altro Qui Per far sì Che questa si sblocchi Però Forse quella E infatti Posso cambiare ora Siamo proprio in una fase libera Ma Basta Andiamo verso il finale Stop Salvare ho salvato Per quanto riguarda le scorte Comunque le abbiamo Le abbiamo un sacco Abbiamo anche i due Estratti Che comunque Ci rendono più forti Io direi che possiamo Procedere Ehm Credo di poter andare Per quanto riguarda le scorte 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 Ehm Dunque il filmato Dunque il filmato dell'omicidio Si trova in una scheda Warm Kuana vuole che io La usi in tribunale Per quanto riguarda le scorte Per quanto riguarda le scorte Ehm 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 Seguardo Ma Sono Seguardo Ehm 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 Proprio Ah no Ehm 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 Cosa ci è qui? Con le informazioni di MISKEN, io mi chiedi a Gragami. Cosa c'è? Un po' di tempo che è venuta a fare un catticare un uomo. Quindi... ...parallò che vi parla a Gragami? Come si parla di una cattiva. Voi, siti. Andava d'accordo con Miko Shiba del club di basket, un po' cinica, burizzava Koda-san. C'era un po' cinica, un po' cinica, un po' cinica, un po' cinica. C'era 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 un po' cinica. Coda avevo pensato subito ad Amazawa perché alla fine abbiamo passato più tempo con Amazawa che con Coda. Coda l'abbiamo vista all'inizio, poi basta. Però vabbè, ovviamente, l'abbiamo aiutata contro i bulli a inizio gioco, sì. C'era un po' cinica, non riesco a starmi dietro. C'era un po' cinica. 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 Noi, non è vero! Non è vero! Cosa? Noi, non è vero! Noi, non è vero che i miei 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 miei? Grazie a tutti. effettivamente non avevo molta vita però abbiamo un sacco di cure è bello andiamo da gru magari e forse mi conviene un attimo curarmi aspetta usiamo il nostro bel pranzetto oppure anche questi si che ricaricano poco magari teniamo le cose ma questi voglio pochissimo ok senti facciamo così guarda la devastazione attenzio pochissimo pochissimo usiamoli anche questa che ricarica poco acqua degli dei ok ok vediamo ha fatto aspetta ok basta con questa cosa questa no però secondo me non gliela possiamo togliere non penso proprio ok quello è andato anche questo manca lui porca vacca vacca c'è un attimo e porca sta mossa e niente mi devo curare ancora ok magari poi se ce n'è l'occasione andrò poi in realtà sta roba non vediamo ora va ok corretta mi ha preso bene Prendo ancora No Madonna Eh però Così facendo Un po' di roba L'abbiamo usata E niente Devo aspettare Via Oh ok No Questa volevo fare Eh devo farlo Skivando Aspetta Al momento giusto Aspetta Eh 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 No Oh Oh Aspetta Ok Oh oh come on I 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 Madonna Che reazione Un mese dopo? Poco prima dell'udienza d'appello Poco Ok L'ora dell'udienza d'appello di AR Devo prendere un taxi e raggiungere il tribunale Ok L'ora dell'udienza d'appello di AR Devo prendere un taxi e raggiungere il tribunale Va come stiamo bene vestiti così Eh, dovevano fare in modo di su Mettere questa Io salvo E creerò un altro va Ok E No adesso Ah il taxi lo prenderò da fuori Oppure vado in automatico Anzi Ok No Ok Ok Questa è un'imprimensione, un'imprimensione, un'imprimensione. Questa è un'imprimensione, un'imprimensione. Questa è un'imprimensione, un'imprimensione, un'imprimensione. Questa è 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 un'imprimensione. Un po' chi c'è. Un'imprimensione. Un'imprimensione è un'imprimensione. 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 Abbiamo int赤, pure vedi. Due molestatori vestiti come Ara Quale prova dimostra che ci sono scambiati di posto dopo la fuga di uno dei due? Eh, sarà il solito punto cieco, no? Eh, che... Eh Eh, che... Eh... 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 No, non ho mai potuto. C'è un nome che ha chiesto di Qwana, che non sono mai conosciuto. C'è un Qwana? C'è un personaggio che ha chiesto di Miko柴 che ha chiesto di Miko柴. Il signore, come diceva che ha chiesto di Qwana, non conosciuto un personaggio che ha chiesto di Qwana. Non si può essere riuscita, ma non si può essere riuscita. Perciò che non si può essere riuscita. Ma, non si può essere riuscita di Qwana, Qua una no son zai che non è necessario Se non è niente, non è vero che il suo figlio di Mico柴 Non è vero che non è vero che il suo figlio di questo Non è vero? Mi... Qua una no? Non è vero che il suo figlio di Mico柴 Qua una no? Possiamo provare il legame tra A e Kwan indicando il movente per l'omicidio di Miko Shiba. Aspetta, registrazione della telefonata di Sawa Sensei. Cosa dimostra che A e Kwan hanno avuto contatti in passato. Faccio sorveglianza, questo l'abbiamo già visto. La registrazione è una conversazione tra Sawa Sensei e Kwan, avvenuta dopo che Akio e Ara aveva perso la casa e entrata contro il liceo serio. Durante la telefonata Sawa Sensei ammette di essere stata costretta a dichiarare il falso, negando gli episodi di bullismo nonostante avesse parlato contro Shiro e Ara dei soppurri subiti dal ragazzo. Qua non c'è nulla che dimostri, forse è proprio la registrazione. Finora siamo andati bene, al primo colpo abbiamo azzeccato tutto, però qua secondo me è la registrazione. Fatto di sorveglianza, io dai diciamo la registrazione, vediamo. Questa è la registrazione. Questa è la registrazione. Questa è la registrazione. Questa è la registrazione. Questa è la registrazione Questa è la registrazione. C'è un'altra cosa? è una cosa che ha insegnato a Toshiro che ha insegnato a Sawa Yohko. Ho scoperto e ho chiesto a un'altra cosa che è... Quana. Ho scoperto tutto. Ho scoperto, lo scoperto, lo scoperto e non mi non mi ha mai fatto aiuto. Ma... ho detto che non aveva mai avuto questo il fatto che non aveva mai avuto e non voleva dire che voleva dire che non ti sia. Ma che non aveva mai avuto il modo che io sono una volta che ho detto che non aveva mai avuto il caso. Il fornito di aver parlato questo mese che mi chiusa l'attenzione di Mico柴 e si fostero sui. E' stato fatto un po' di Miko柴, che è stato un po' di Miko柴. C'è cosa, E'harà? C'è un po' di ricordazione? C'è un po' di ricordazione. Ok. Allora, non è così. Allora, dovessi tornare a tornare alla principale. Mi ha dato un po' di Qwana. Grazie a tutti. Tranne te Yara, sai benissimo che il contenuto di quella registrazione è vero. Grazie a tutti. 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 dicevo maledizione abbiamo bloccato il traffico e gli compro tutto prendiamo tutto tutto questo, ah qua ce l'ho già questo va benissimo questo va benissimo questi ricaricavano poco poi abbiamo le bibite questo c'è già ok questo abbassa l'alcol ma si d'ambero ok il resto ma questo ce l'ho questo prendiamolo dammi questo anche questo dammi questa ci siamo ricaricati direi che possiamo proseguire min no 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 no